Tecnologia unita alla bellezza che ci emoziona e stupisce, come da oltre vent'anni sa fare commerciale Veneta Beltrame, migliorando il benessere della persona, pensando sempre all'ambiente, con idee innovative e grandi sorprese. CVB Arredo Bagno afferma la propria identità di marchio specializzato attraverso i prodotti più emozionanti e più tecnologicamente avanzati, anche per portare nel bagno tutti quei valori di benessere e di comfort che sono oggi alla base della vita nell'ambiente domestico, trasformando il bagno da un luogo di transito a un luogo di piacevole permanenza per migliorare il modo di vivere la propria casa. Come mai avete scelto l'immagine del coccodrillone rosa pronto per fare il bagno in una vasca, per accompagnarci in questo entusiasmante viaggio nel design e nella tecnologia per la casa. Perché come noi è amico dell'acqua e suscita tanta simpatia soprattutto fra i bambini. È di un bel colore rosa acceso per emergere da questo mondo che troppo spesso è grigio. Il vostro è un marchio molto conosciuto, un'azienda innovativa piena di proposte. Sì, la commerciale Veneta Beltrame è da sempre a fianco dei suoi clienti per migliorare la qualità della vita e il benessere delle persone. Operiamo prevalentemente nelle province di Treviso, Vicenza, Venezia e Padova con le nostre showroom di Treviso, Castelfranco e Schiavon, dove i nostri clienti possono toccare realmente con mano le nostre soluzioni più adatte per realizzare il loro nuovo bagno. Oggi, prima di decidere un investimento così importante per la casa, il cliente vuole informarsi liberamente, capire le tecnologie e i materiali che può utilizzare, poi toccare con mano tutte le soluzioni disponibili. CB Aridobagno è il nostro nuovo marchio dedicato, in evidenza nel nostro nuovo sito, che vuole essere l'espressione del rapporto privilegiato col mondo del design e dell'architettura. Con il nostro consulente showroom che fa da regista per i produttori, gli architetti, gli installatori, per ottenere un risultato eccellente. Possiamo seguirvi anche online? Seguiteci su Facebook per rimanere aggiornati su tutte le nostre proposte. Visitate il nostro sito cvbeltrame.it per prendere visione di tutte le migliori soluzioni che abbiamo preparato per realizzare il vostro bagno da sogno. Vi aspettiamo in showroom a Treviso, a Castelfranco Veneto e a Schiavon vicino a Vicenza per un incontro personalizzato con il nostro consulente a Redobagno, sempre in compagnia del nostro coccodrillone rosa. Chiama per fissare un appuntamento, troverai nello showroom un simpatico omaggio per i tuoi bambini!